Musica Signori benvenuti e bentornati in questo fantastico nuovo episodio del Road to Champion su console Remus Exige Oggi ragazzi giornata stressante, a tratti potrei dire perché è stata una partita molto particolare, intensa, con grandi emozioni Ma ragazzi in questa partita ho brillato di luce eterna per quanto riguarda la intelligenza nel giocare Mi sono molto messo nel gioco capendo i miei limiti sulla mira Quindi magari ho cercato di modificare il mio gameplay ovviamente non avendo la mira che ho su PC Quindi ovviamente ragazzi bisogna cambiare gameplay a seconda della mira, della reattività che avete Spero la partita vi piaccia, un bel mi piace, un commento, un'iscrizione e andiamo col video Signori, siamo in attacco su banca Allora, loro andranno su, ragazzi vi faccio vedere la... dai vi faccio vedere la strat degli dei Vai, va bene dai, solo per voi eh Comunque l'email te l'ho scritta su Insta quando poi aggiungi, quindi va bene dai Ok Ok, era grassiato qualcuno, stavo già piangendo Ha lasciato Come si fa sta strat? Noi entriamo col drone Cominciamo a vedere un minimo Qua cazzo sta gente Ci cominciamo a mettere il drone Qui Ora Ah no, ma che se qua spotta la bomba e gli avversari No defi scemi, non si fa Perché a me di spottare che l'avversario c'ha bandit Ma a me che cazzo me ne fotte Poi si vede Poi tanto c'è il tipo che ha spottato pure solo la loro madre Allora, caveira Cazzo loro Allora Dai, let's go Bagdao, cazzo in culo, l'aleo Come cazzo si vente l'abilità Ok La fai con la cam tu, frate Guarda un cazzo Tu cazzo sta la cam, raga Vado una minchia Raga, non vado una minchia Devo farla io Eh ma non si sa appena si chiamate Ah beh, vostra madre è tro Tro easy, c'è nel senso Ok Ok Allora c'è Chi mi metterli su questa bellissima vetrata Che dite Quale c'è entrata? E se sei un gogliongello Nella prossima volta stai calmo Tacci lì un attimo Eh raga la mira Tu PC l'avrei fatto Su console faccio scritto Che cazzo vi devo dire Alla Niente da chiedere in più le mie mani Va bene David Ok GG Nulla da chiedere in più le mie mani ragazzi Piano piano Tempo al tempo Quando muoio per la mira Ci sta Bravo, bravo, bravo Eh ragazzi Io devo Oh questo è il champion Streno Io devo capire che Con la mira che ho Non posso fare se strato Ragazzi Se c'è Quello deve essere proprio fermo con me Guarda Per ammazzare Oh champion Dai fatti sta kill Sei ancora a zero Eh io non so champion Alla Vedete pure qua ragazzi Il champion Cosa ha sbagliato secondo me Kimo Questo qua Con noi Il fatto che Stava sparando a quello Al posto di inseguirlo In maniera lineare Ha fatto Tutto il percorso laterale E quindi si è messo Scoperto Da tutta l'altra parte Ma gli avversari Erano due Segui quello Vai uno V uno contro quello Non ti esporri Dall'altro lato Che magari c'è l'altro Ovviamente Ha sbagliato quello Devo stare più stretto Lineare verso di quello O comunque andare a sinistra Dove sapeva che O c'è quello O non c'è nessun altro Invece no Che è tutto a destra A destra c'è l'altro Però adesso ho due O tutti e due sono stronzi Guardano lo stesso punto Che cazzo prendere comunque Eeeh C'è il bannato C'è il bannato Per le bottele No non doveva per niente Picca il corridoio Ma neanche l'ha piccato Il corridoio Si è messo a correre Guardando dentro Capito Eeeh Raga non so Chi cazzo prendere Ehi banna c'è Montagne c'è Lion c'è Ehi Si serve un cazzo Ma c'è Possiamo provare a fare Possiamo provare ad andare da qua Con knock Inciam a knock Io Ma riesco A tenere in culo Neanche so che cazzo È in culo Non mi ricordo Vabbè proviamo ragazzi Il drone ce l'ha messo in culo Abbiamo perso il drone Non è vero Hanno di uno cavail Comunque Te l'ho spawnato All'altro lato Comunque Allora Ragazzi Ragazzi Vorrei andare da garage Non so Ah Edono Ovviamente Appena arriviamo in quel punto Ragazzi Ci fermiamo Perché Da qua Potrebbero già piccarci Guardali 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 Chi ha sti figli Ci vorrebbe qualcuno Che mi tenesse Sto drone Solo che Potremmo anche dire Che mi attacco Quarcazzo E stringo forte Allora Non so Perché non mi stiano Difendendo Sinceramente Allora Con quello Blocco sia il push Che rompo la camera C'ho anche il drone Mi serve un cazzo Stabilità Ok Buono Allora Knock ragazzi Mi è servita Tantissimo Perché ovviamente Con l'abilità Cos'è che ho fatto C'era la bulletproof Davanti a me Che l'avete vista Che era bianca Quando è bianca Vuol dire che Tu hai attivato L'abilità E lei non ti sta spottando Io ovviamente Neanche mi sono messo A correre Quindi tranquillamente Non mi vedeva Quindi la tattica Ha funzionato Ok 1-1-1 1-1-1 in attacco Sapete che potremmo Sapete che potremmo anche Nulla Nulla Soprattutto Non garantisco Nulla Manuel Grazie 4 mesi Bentornato Sì infatti Knock ragazzi Senza passo Felpato È stata nerfata Un bordello Quasi mai viene preso Cioè Solo per piccole cose Viene preso Ad esempio Qui ci poteva stare Perché Comunque Non mi hanno visto Dalle cam Cioè Da una Sì Quello all'inizio Però negativo Che cazzo attivo Passo felpato Dall'inizio Minchia Questa è Buttavoce Ma stompati Timpani Questa Quando ha parlato Pazza Sgravata Sta tipo Ma è Ma ne riesce Minchia Ma non vale Che c'ho Le arpe Perché Perché Raga Questa è Buttavoce Mi stompa Tre timpani E mezzo Ogni volta Che gioco Che parla Allora Ok Non c'è niente Il problema di qua È che Devo controllare 47 cose Qua non c'è niente Qua non c'è niente Qua non c'è niente Ho già sentito Che ce n'è uno Ok L'ho visto Ce l'ho visto L'ho sentito Eh raga Dovebbe essere qua No No Eh Allora Allora io posso fare Sta botola Controllarmi Sempre Dietro Che raga Eh C'è comunque Un problema Di fondo Allora io posso Comunque controllare Sempre in fondo Dove è Ah però non c'è nessuno Allora Allora Sta cosa va benissimo Con quelle porte chiuse Però Eh cazzo Eh cazzo Ok mi sta venendo da dietro Appena ha rotto Quella La porta di lì Allora 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 Come on bro Come on Jesus Non si molla niente A 22 secondi L'abbiamo fatta A 22 secondi Ho lanciato le sfere del drago E ho detto Mannala Flavie A 22 secondi Ok Abbiamo giocato bene con Ying Abbiamo giocato bene Ho fatto un buon tempo di reazione Buona mira Lasciamo stare su mira Però vi devo dire Che comunque vedete che Ying Se uno ha la mira Funziona Ciao Ricky come stai Ogni giorno Sul secondo canale Ricky O quello di oggi Vi esce stasera Alle 21 Allora Secondo me per compensare Potrebbero darle Un occultamento totale No No ma ci stava Passo felpato Allora Comunque Oh raga Ho giocato bene Nessuno Ma ha scritto niente Siete stronzi Ok appena sbaglia Poi tutti Oh 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 Lof 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 Cioè faccio una giocata così Che giocata Vaffacculo Ok Faccio una giocata del drago E nessuno scrive un cazzo Come se voi lo fate sta cosa Pezzi di merda Nessuno scrive niente Poi sbaglio Smiro 57 volte Mira Oh 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 Ma passa la senso Ma passa la senso Vaffacculo Ok Quando io sbaglio Allora Non mi dovete parlare Non accetto consigli E niente Perché tanto Quando faccio le belle cose Non mi cagate Che allora vaffacculo Io non vi cago Quando faccio le cazzate Eh 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 Sì 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 Poi vediamo Quando faccio le cazzate Prima che parla Che questo Dio Lo banno Eh Vede pare che si può stare Anche quando sbaglio Tutta l'erba Un fascio Attaccata Ma secondo voi Un cazzo Allora io così Le difendo Le finestre Certo Mi serviva magari Un operatore Col 2.5 Però comunque Le difendo Le difendo anche Spiral In caso Beh Stanno a giocare A Call of Duty Comunque Quindi quelli Sono su Spiral Eh Volevo salire Da Spiral Ok Ok mamma mia io ti conosco come le mie tasche sudate sporche di merda hai capito mamma mia come il brain il cazzo di brain io non sono entrato dentro a mangiare lì la merda io sapevo lei uscisse tutto scriptato nella mia mente chat tutto scriptato ok lei planta io sono sicuro che lei si mette fuori e ha trovato me che l'ho inculata ok chat esattamente esattamente ok chat esattamente allora lockers si calmi io non mi calmo per un cazzo ok questa lobby me la mangio perchè ho preso bandit va bene ciao jack bene te si era sulle scale col telefonino va bene non l'ho capito non l'ho capito allora oh la la oh la la grazie per le armor allora abbiamo mira comunque quindi dai abbiamo trovato un senso per il bandit quando li metti in mira frada serve che uno lo giochi male se no rischi il ban cazzo hai ragione quindi io rischi il ban ragazzi ho un drone qua ragazzi ho un drone qua e perchè io mio amico io bronzo 3 lui argento 1 ci troviamo contro gli ex champions smeraldo perchè questi stanno matchando con i ragazzi col vostro bravo addirittura ragazzi mica abbiamo iniziato benissimo che dite possiamo esibire un paieroma che dite mira perchè dove cazzo copri stai coprendo lì perchè ti allontani dal tuo dalla tua cover di merda no mo l'hai perso il posto mi dispiace oh man mira perchè non mi stai coprendo neanche da garage eh raga mi lasciano da solo che cazzo devo fare guarda che cazzo devo farci mira lascia i posti se ne va mira si da all'ippica così lei copre un posto e poi decide che se ne deve andare lei cambia ecco ma le screvi di harry potter le piace cambiare così e mi inculo comunque raga questo è impossibile sia champion vedete questo errore che ha fatto a parte lo scherzo vedete questo errore che ha fatto che stava guardando la botola di cavo senza mirare vedete che lei non si è fatta la kill perchè non stava mirando quindi da questo quando io vi dico pure se voi state guardando senza mirino una porta un muro un'uscita un qualcosa voi non state realmente coprendo perchè poi dovete andare a mirare e andare a giustare la mira e andare a sparare al tipo invece se lei fosse stata già in mira se lo sarebbe fatto cosa che non è successa quindi per questo vi dico sempre che dovete stare in mira queste cazzo di mani non le usate sempre in mira sempre perchè se no è nulla hai visto che hanno bannato spoilt per il percentuale di headshot un po' sus ma è tipo la terza volta tipo tre volte l'hanno bannato per sta cosa me è abituato spoilt al bann ma perchè lo bannano per le stats pure se sembra un attimo ridicolo in quanto bannano spoilt per le stats ecco mi trovo in partita su pc i cheater con 22 di kd però che dire follettine e follettine a noi ci interessa qualcosa non pensa proprio cosa dire cosa dire se non gg per c ma raga io ne metto pure tre qua perchè so sicuro che questi neanche li vadano perchè comunque spotted ma che cazzo me ne ho fatto sinceramente questa raga sta botola non la fate mai anzi rompetela potete dire ragazzo che è un po' troppo aggressivo minchia raga per rotto uno un coso di brava ma tu potevi potevi rimanere proprio due secondi in più ottimo ho provato cazzo comunque secondo me potrebbe essere morto il breacher sapete perchè non stanno ancora facendo le botole e qualcuno è saltato ed erano quelle tre capcan che avevo messo io alla porta un'altra capcan l'hanno presa doppia su cucina quindi uno è one hit buono 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 la senza abbassala perchè so abbassate ragazzi qua non sono morto per la senza è stato bravo lui cioè aveva la flash è stato bravo lui a usare la flash no frate vabbè dai vabbè l'hai ferito l'hai ferito chill no non picca più se tu ripicchi quello c'è ti ammazza e te l'ho detto che cazzo picchi di nuovo ma chillati dai vai ah banano spot perchè è conosciuto e le altre persone no che cazzo c'è vabbè il problema ragazzi è che finimmo in attacco e non è che abbiamo fatto 2-1 sta mappa è completamente difensiva e non so neanche come cazzo abbiamo fatto 2-1 ah vabbè perchè ho fatto quelle 3 kill alla fine allora andranno giù su non lo so scelgo dopo vediamo comunque ragazzi veramente vorrei vedere ma non per me il gioco con un anti-cheat assurdo e con un mouse trap assurdo e vedere almeno per un giorno la gente tutti no 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 per un giorno per una stagione tutti senza cheat cronus mouse e tastiera su console e realmente vedere tutti quei champion chi di tutti quei champion resta champion secondo me solo un 15% resta champion 100% è la totalità al momento dei champion secondo me solo un 15% 5 minuti non mi serve un cazzo maverick sono stato lentissimo sono stato veramente lentissimo non mi serve veramente una minchia maverick facciamolo funzionare che devo dire uscirà prima o poi non lo so oes hanno mute allora quella è già rampellato su finestra raga allora se io rompo sta finestra sta porta secondo me qualcuno picca quello quello là ecco però se muori ma non ti picca nessuno da qua se fosse rimasto quei 10 secondi in più vivo magari la gente ti avrebbe piccato però fatevi un attimo controllarla non va vicino troppo per il c4 il problema è il c4 il problema scusami il plant il problema è il plant che ce l'aveva solla che è l'ha perso dentro ok non c'è neanche il drone ragazzi no no neanche un drone che cazzo però guardo là non c'è mi giro c'è mi giro mi giro xolla io non so se tu sei italiano o non ma ti giro mi sto proprio trattenendo dall'insultarti stai veramente giocando di merda stai veramente giocando di merda che hai il defuser e tu entri in uffici senza prima controllarti col drone stai giocando di merda quindi io non lo so se sei italiano questo video andrà su youtube guarderai il video io non ti sto offendendo ti giuro ma quanto cazzo mi sto trattenendo stai giocando veramente di merda ma non come come skill proprio come intelligenza come mentalità come cose da fare c'è proprio cazzo sto around proprio perso per te cioè io sono andato lì sono morto per te perché sono dovuto andare lì per il defuser c'è capisci cioè not good bro not good ciao max come va cazzo mamma mia male 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 peccato minchia raga mi volevo troppare dalla mi volevo troppare da quelle scale ma è il defuser dove fate a sapere che è filippino ma è il defuser di cui ha fatto il defuser è il defuser il defuser ha fatto il defuser il defuser ha fatto il defuser allora taglie ce lo sentiamo nel culo ve lo sentite complimenti Questa cosa, ragazzi, col drone In attacco, non la fate mai Oh mio Dio, ho spottato Bandit Vi ho rotto il drone Non è worth Per un cazzo Ciao Vitto, come va? L'avrei ucciso Se avessi avuto Una mira migliore Però l'ho distrutto, dai Ci sta, ci sta Vediamo Oh, se mi pushano Forse sparando bene li ammazzo Bravo Eh, si è messo bene Cazzo, l'ho lasciato con 20 HP Allora, raga, comunque Non ho fatto neanche una kill Ma due sono con pochi HP Con una mira migliore Li avrei ammazzati Però, vabbè, dai Due solo Peccato perché me la so giocata pure intelligente Eh, Doc, Doc, Doc Servi tu, eh Eh, ma col cazzo No, Doc, non ti fa ammazzare Doc, non ti fa ammazzare per curare il tuo compagno Allora Non mi sono arrivati Neanche Ma scusatemi Cioè, hanno ucciso Manu e non mi è arrivato l'assist Quindi non l'ho ferita io, quella Ma chi cazzo ha sparato da quel buco, scusatemi Ma non era lei, allora Non lo so Non lo so, shot Non comprendo Questo sistema Particolare Siete un po' triggerato Oh, minchia, anzi Ho detto che Non mi sono neanche incazzato No, ragazzi Sono console Non mi triggero mai Perché Pretendere di avere Una buona mira Avendolo preso da poco Gli sarebbe da stupidi Incazzarsi per quello Incazzarsi perché Bravi Incazzarsi perché Smiro Sarebbe veramente da stupidi Perché se ci giocassi Ogni giorno fisso, eh Allora lì, micchia Che fila di merda, eh Vaffanculo, sono un coglione Lì ci sarebbe, però, capito Per i compagni No, 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 no No, no, completamente No, ragazzi Sono abituato a giocare In solo queue Non mi, non mi tang Tangiono Tangono Tangiono In senso di tangono Eh Non mi tange niente Dei random, ok Non Non mi interessa Non mi interessa Non mi interessa Allora, 4-4 Loro sopra Erano andati sopra Hanno vinto Quindi andranno giù Oh, io prendo Ibane Ah, perché Quello non lo prende Io non capirò mai Perché la gente Va in giro Con la deagle O con le pistole Perché si credono Un cazzo in mezzo E poi c'è una mira di merda Perché con la deagle Se tu hai una buona mira È un'arma assurda Ma di avere la mira Eh Allora Tangere Tangere Tangiro Tangiono Non mi tangiono Fa schifo da sentire Però penso sia giusto Tangono No Tangono è il tango Tangono Si avverba così Si coniuga così Si coniuga così Si conia così Ma raga Le pistole Sono una delle armi Più forti del gioco Infatti se voi notate I pro player Spesso Le usano Perché se tu c'hai Una buona mira Sono p Se tu c'hai una buona mira E spari veloce Le pistole Sono p Perché basta che prendi In testa È come se fosse Un'arma normale Ok Quindi Quello La doc Che cazzo ci fa La doc Li Allora Vi è stato il Capcan che poco fa L'ho usato io E li ho distrutti Col Capcan Quindi Potrebbero usarlo Anche loro Ok Si dice tangono Ma sai che tangono Era più bello Tangono Vabbè Sì Sentendolo È più bello Tangono Ok Vedete ragazzi Si scoprono cose nuove Non sapendo l'italiano Con Con Chi è Tu madre Ok Facciamo finta che l'ho fatto Allora Allora ragazzi In teoria No In teoria È un cazzo Allora vediamo Ok Eh questa posizione Ragazzi è buona Questa posizione È veramente Tanto buona Dovebbe plantare Però Sì lo devi plantare Ma non lì Planta la bomba Eh raga Io me lo devo coprire Da Da quanti lati Devo coprire No Ma io mi faccio I cazzi miei Mi faccio Proprio i cazzi Miei Guarda È tutto Tananai Easy ragazzi È letto Daio 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 Easy Bella Tranquilla Allora Bella partita Complicata Si sono fatti Molti errori Sia io Che Gli altri Proprio in generale Si sono fatti Molti errori Però Dai ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Va bene così Va bene così 9 kill Si Ho fatto 9 kill 9 belle River 4 Argento 4 Piano piano Si sale M Ciao Grazie a tutti.